Tre parole, adorare, camminare e accompagnare, scandiscono il breve discorso a braccio di Papa Francesco ai missionari clarettiani ricevuti in Vaticano e impegnati nel 25esimo capitolo generale sul tema i testimoni e messaggeri della gioia del Vangelo. Dopo aver consegnato il discorso preparato per l'occasione, il Pontefice ricorda loro che si è perso il senso dell'adorazione, lo stare davanti all'unico Dio che non si negozia né si cambia, unico perché tutto il resto è di cartone, è un idolo. C'è poi il camminare che significa aprire le frontiere, le porte e cercare le strade nuove, anche se c'è il peso di organizzare. Ma non si deve stare tranquilli, anzi bisogna andare come l'acqua del fiume che scorre, evitare di stare fermi perché l'acqua stagnante, afferma il Papa, si corrompe. Camminare come ha camminato Dio che si è fatto compagno di viaggio. L'importante è non farlo da soli, ma accompagnare il popolo nei momenti di allegria come in quelli duri, accompagnare i tanti desideri che si hanno nel cuore e lasciare che crescano bene. Grazie.